L'amministrazione non può che condividere queste iniziative, noi abbiamo supportato fin dall'inizio sia moralmente che anche attraverso alcuni passaggi burocratici e il supporto logistico che abbiamo potuto dare sia alla fondazione che al Bitta, ai ragazzi, a tutte le associazioni che stanno contribuendo per fare questa due giorni che servirà per dimostrare che a Bagheria ci sono degli spazi inesplorati e che laddove non arriva il pubblico servono le energie dei privati. Quindi è un esperimento che spero andrà a buon fine e che spero potrà dare un nuovo polmone importantissimo alla nostra città. L'obiettivo dell'amministrazione sarà quello di dare un contributo a questo progetto e quindi di supportarlo anche per il futuro e fare in modo anche che i polmoni urbani della nostra città, anche quelli piccoli, quindi piccoli parchi, piccole aree attrezzate possano essere utilizzate al più presto da tutta la cittadinanza. Ce n'è bisogno in questa città, per questo abbiamo approvato un regolamento per la realizzazione dei patti di collaborazione con le imprese e le associazioni che volessero gestire queste aree attrezzate. Quindi tutte le associazioni, le imprese, i privati che volessero fare dei patti di collaborazione con l'amministrazione si facciano avanti per rifunzionalizzare questi spazi verdi e darli alla collettività attraverso delle attività che possono avere anche delle finalità a scopo di lucro ma soprattutto per dare uno spazio pubblico, uno spazio alla collettività. Questi due giorni, il 25 e il 26 agosto, apriremo soltanto la Pineta, cioè una piccola parte del parco, quella in giallo. Abbiamo l'obiettivo di aprire tutto il giardino di Villa Serra di Falco, quindi tutto il parco, per febbraio-marzo. Probabilmente si accederà attraverso un tesseramento annuale, ancora non sappiamo il prezzo, sarà di 5-10 euro per garantire sia noi della struttura che chi usufruirà del posto. La proprietà della Fondazione dell'Intelligenza Italiana al Servizio dell'Umanità è molto difficile da dire, è molto lungo mentre la gestione è del locale Bitta e Bitta Ristro. Quello che faremo è aprire quotidianamente, giornalmente, tutto il parco a tutti coloro che si tessereranno e in più comunque organizzare eventi a 360 gradi. Noi internamente, tramite partner, tramite partnership, associazioni, soggetti e altre fondazioni. Diciamo che questo è l'obiettivo finale, quello di aprirlo tutto. Questi due giorni ci godiamo la pineta con dei concerti, tantissime attività per i bambini, degustazioni di vino, corsi di spillatura di birra e tant'altro. Grazie.